E' ufficiale, Luca Ghiringelli sarà un nuovo giocatore della Ternana, avevo già annunciato questa notizia di calciomercato in un video nel secondo episodio del calciomercato della Ternana e siamo riusciti a prenderlo, difensore come ho già detto preso dal Cittadella, anche nel video, dico la stessa cosa che ho detto nel video del calciomercato della Ternana se ve lo siete persi andatelo subito a recuperare, avevo detto che a primo impatto potrebbe fare, ora non lo so, Luca, perché io so che non si giudica un giudica non è che lo so giudica, che, dico, giudica, tra virgolette, senza neanche vedere come gioca, non ho visto niente, però secondo me a primo impatto potrebbe fare la riserva di Contek, di Boben poi Boben neanche l'abbiamo riscattato, ora neanche so per quanti anni l'abbiamo preso in prestito, però speriamo di riscattarlo perché ragazzi, anche lui è stato uno dei più, più, chi ha giocato meglio in questa stagione, perché praticamente è stato un muro è stato veramente un muro, quindi ragazzi, preso Chiringelli, come ho già detto dal Cittadella, 29 anni, quasi 30 vedremo, vedremo come giocherà, se sarà un bel colpo poi vi dirò come giocherà, perché ora tranquilli che mi metto a vedere un po' su Youtube se trovo qualche suo video di come gioca, di come difende, se è bravo poi vi dirò se ho sbagliato a dire che potrebbe fare la riserva niente, il video può finire qui, spero che vi sia piaciuto, come sempre iscrivetevi al canale, lasciate like per supportarmi commentate e condividete con tutti questi amici noi ci becchiamo ad un prossimo video può darsi, mi sa, domani farò, vabbè, ciao a domani a domani